Campo? Sì. Puoi guardar? Puoi guardar? Sì. E' la noce... La noce... ... apriva... ...cuanto di qui? Eh... ...cuanto di qui? No, claro. E' il mio... ...cambio. No. Corte? E' il mio... Ma... ...canto di qui? ...la luna... ...poteva avere... ...la luna... ...la luna... ...la luna... ...la luna... ...estava clava... ...cobia avere... ...la estrella... ...e... ...e... ...después... ...me è un... ...de... ...mi patrulla... ...como si è? Patrulla? Patrulla. E... ...mi campaniero... ...me dice... ...e... ...me dijo... ...e... 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 ...por 5 minuti... ...i... ...y... ...de repente... ...veho... ...un objeto... ...e... ...prontés a mi... ...prontés a mi... ...prontés a mi... in quanto chilometri è stato un diamante Stavo, stavo volando, stavo volando in cielo, in círculos, sobre il nostro campo, ma' rapido, come, come andiamo con il nostro campo, e per il nostro campo, e per diario, per questo io corrì però in passato io corrì io corrì per dimostrarlo a mio amico che ho fatto un patrone conmigo però quando lo chiamé la testa di separazione non potrei eliminarlo e fino a ora è la mia un bambino mi crede che se passò a parte che è un soldo qualcosa molto interessante non potrei spiegare abbiamo in islandia no, non posso dire perché non posso dire quanti minuti o quanti minuti spiegare una città sono però non Grazie a tutti. Grazie a tutti.